buongiorno a tutti da earthmajored è già da un po che non parlo di terra piatta così in questo video voglio provare a rimensionare l'argomento perché assolutamente non l'ho abbandonato semplicemente mi sono concentrato di più su cose legate alle profezie bibliche viste i tempi in cui viviamo tuttavia si rende necessario fare una serie di video a proposito della terra piatta perché sul numero 6 morris san ha pubblicato subito dopo il mio video cioè in pratica andando a cercare terra piatta su numero 6 si trova il mio video e poi un video una sorta di video di risposta di massimo mazzucco che è stato fatto un paio di anni fa ed è stato pubblicato lì morris san lui scrive noi non prendiamo posizione ma semplicemente pubblichiamo tutta una serie di informazioni alle volte anche discordanti per fare informazione libera informazione per me questo non è fare informazione no se io vado a pubblicare un'idea e poi subito il suo contrario non è fare informazione fare informazione vuol dire andare ad indagare la verità e pubblicare la verità e eventualmente pubblicare poi delle piccole correzioni o delle correzioni laddove si rende necessario ma si segue una linea di indagini una linea di investigazione questo invece è una grande accozzaglia quindi io ho scritto nei commenti a morris san se mi avrebbe permesso di pubblicare sul suo canale un video in risposta alle stupidaggini pubblicate da massimo mazzucco ma non non ho ricevuto risposta ho scritto morris san anche via mail non ho ricevuto risposta e quindi a questo punto pubblico una risposta pubblica sul mio canale allora in questo video che massimo mazzucco intitola la teoria della testa piatta già lì con intenti denigratori non è perché nel momento in cui io non sono in grado di distruggere una teoria io denigro io attacco così che chi vede quel video vede che c'è la possibilità di essere denigrati se si prende una posizione da quel punto di vista e quindi ci si tiene alla larga quindi non è informazione assolutamente massimo mazzucco sinceramente stupisce quando prende queste posizioni perché io mi ricordo ancora era il 2010 2011 quando muovevo i primi passi nelle all'interno di idee complottiste o comunque verità alternative e imparavo da lui imparavo da lui a proposito per esempio del falso allunaggio a proposito della verità sulla marijuana perché questa è stata resa obbligatoriamente non fruibile e così via quindi lui insegnava a me ma poi già dopo pochi anni l'avevo abbandonato perché mi ero reso conto del fatto che si tratta di un personaggio che fa opposizione controllata cioè è un imbonitore che crea l'opposizione affinché questa possa essere controllata ad ogni modo lui fa un video in cui tratta alcuni punti che secondo lui sono delle colonne su cui si deve andare a ragionare per smontare facilmente il terrapiattismo questi sei punti sono questi allora uno è il volo le ruote aeree in realtà si tratta di un volo in particolare che è quello che viene sempre menzionato e che è quello che porta da santiago del cile fino a sidney in australia un altro punto sarebbe quello relativo alle albe tramonti che non tornerebbero sulla terra piatta un altro punto è quello dei satelliti che per i terrapiattisti non esisterebbero e secondo lui invece la cosa diversa un altro punto il sole all'equinozio vedremo poi cosa si intende un quinto punto l'eclissi di luna un sesto punto la teoria della gravità tutti i punti che secondo lui non vengono trattati in modo esaustivo dai terrapiattisti e lui quindi ci dà la sua spiegazione dicendo che chi crede la terra piatta è un emerito deficiente allora quindi inizio a trattare il primo punto in realtà che sarebbe quello sulle roteie in realtà lui poi apre con la questione della curvatura no perché perché la curvatura è una cosa talmente evidente a dimostrare che la terra è piatta quindi la mancanza di curvatura che non poteva esimersi dal trattarlo però lui la la menzione appena la sorvola dicendo che così come ci sono moltissimi video che sembrerebbero far vedere degli oggetti molto lontani che dovrebbero essere fuori dalla vista a causa della curvatura lui dice ci sono altrettanti video che dimostrano il contrario e quindi non non è una cosa dimostrabile menziona per esempio il fatto che da genova si veda la corsica però se tu menzioni un aspetto del genere e poi dici che ci sono dei video che dicono il contrario io vi posso dire io l'ho vista corsica la corsica dalla liguria da genova da menton dalla spezia quindi da tutta la liguria è visibile la corsica e ne ho testimonianza diretta e la cosa è talmente comune che penso molti di voi che abitano in piemonte o liguria abbiano avuto questa esperienza perché magari abbiamo più possibilità di andare in quelle zone quindi avendolo io visto non mi puoi dire ci sono dei video che dimostrano il contrario l'ho visto l'ho visto e poi basta andare a fare il calcolo di curvatura per vedere che la corsica non dovrebbe essere visibile si dovrebbe vedere a malapena a malapena ma io direi anche che non è così comunque a malapena si dovrebbe vedere la punta del monte cinto per quanto riguarda la questione del volo da santiago del cile a sydney voi capite che su una terra piatta il sud del mondo si allarga tantissimo rispetto invece a un globo in cui i paralleli vicini al polo nord hanno la stessa dimensione dei paralleli vicino al polo sud invece sulla terra piatta capite che le circonferenze si allargano sempre di più e quindi una distanza tra santiago del cile fino a sydney richiederebbe un volo sulla terra piatta come lui dice ed è corretto di circa 30 ore quindi non è possibile il volo diretto che al massimo potrebbe essere sostenuto da un volo di 16-17 ore e lui dice io sono andato semplicemente su flight aware che è un sito su cui si possono trovare voli di varie compagnie e ho digitato santiago del cile e sydney e ho trovato che la compagnia australiana della quantas fa questi voli diretti due o tre volte tre volte a settimana dice lui e ci fa vedere quindi clicca su uno fa vedere ecco questo è partito a tale ora è arrivato a tale ora è arrivato un'ora e mezza fa quindi è già arrivato 13 ore e mezza di volo addirittura contro le 14 qualcosa previste e quindi vedete che e poi lui dice io non avendo esperienza di questo volo però ho esperienza del volo roma san francisco io abitavo a san francisco dice mazzucco e quel volo lì richiede 12 ore e se noi andiamo sulla terra piatta vedete lui riportalo di quel segmento roma roma san francisco lo riporta sulla distanza sulla linea che intercorre tra santiago del cile e sydney e fa vedere e sono più di due volte e mezza quel percorso quindi dovrebbe ci dovrebbero e ci dovrebbe essere un volo di 31 un volo diretto che sarebbe impossibile ecco quindi lui pacioccando un po su internet ci dice che è chiaro che i terappiattisti sono sono dei rimbambiti perché credono a qualsiasi cosa ecco a me intanto da qua parte la mia risposta diciamo intanto mi fa ridere il fatto che lui menzioni solo questo volo e non menzioni invece le decine di esempi di voli che non tornano sul globo e che invece tornano perfettamente sulla terra piatta io non ho mai trattato questo argomento anche sul mio libro non l'ho trattato perché mi piaceva approfondire di più gli aspetti relativi al calcolo no gli aspetti della fisica e della meccanica del movimento della terra della forma della terra e quindi ho tralasciato questo aspetto che è stato trattato molto bene da alcuni terappiattisti e quindi potete andarvi a fare ricerche e vedere come ci siano effettivamente decine di esempi che fanno vedere voli che non tornano sul globo e tornano sulla terra piatta e quindi mazzucco dovrebbe prendermi quei voli e dimostrarmi in qualche modo perché andando ritornando invece a questo volo lui andando a digitare su flight aware trova dei voli diretti io sono andato su flight aware e ho digitato questo volo non l'ho trovato sono andato sul sito della quanta non ho trovato voli diretti ma solo voli che richiedano a due o addirittura tre scali non nego però che un paio d'anni fa forse anche tre quando mi ero interessato di questo volo avevo trovato anch'io su internet questo volo quindi possibile che ora io non l'abbia trovato ma che questo volo ci sia proprio oppure che fosse in elenco in passato e ora non ci sia più il fatto che comunque che io andando a digitare su internet trovi questo volo trovi l'orario di partenza io trovi i giorni in cui ci siano questi voli trovi quindi i prezzi e così via non dimostra nulla e massimo mazzucco dovrebbe esserne ben inconsapevole perché lui ha fatto dei documentari sul falso allunaggio il fatto che io vada su internet e trovi la descrizione dettagliata del dei lanci a pollo che hanno portato agli allunaggi il fatto che io trovi i nomi e i cognomi di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo volo spaziale i nomi e cognomi degli astronauti che sono stati sulle navicelle e che magari hanno anche messo piede sulla luna il fatto che io trovi la descrizione del materiale lunare che è stato preso dalla luna il fatto che io trovi i filmati questo è una dimostrazione del fatto che questo questi voli su fino alla luna sono stati fatti massimo mazzucco ci dimostra con dei video che tra l'altro per quelli che avevo visto io anni fa erano anche ben fatti poi so che lui ne ha fatti altri ma non li ho più visti ma lui ci dimostra il fatto che nonostante l'inganno sia stato di portata mondiale c'è un inganno il fatto che ci siano dei dati precisi su internet non dimostrano il fatto che noi siamo effettivamente andati sulla luna massimo mazzucco nel suo video sulla testa piatta ci dice che la quantas dovrebbe quindi andare a pubblicizzare dei voli che non esistono e quindi andare a dire poi a chi vorresse prenotarli no guarda questi non sono disponibili devi andare a cadere su altre scelte e lui dice questo non è possibile allora non è possibile neanche la falsificazione ben più enorme che è stata fatta a proposito dei video sulla luna inoltre io sono andato fuori di flight aware ho digitato semplicemente su google volo roma san francisco mi viene subito fuori un volo diretto che tra l'altro costa estremamente poco sono dei voli che guardate sulla pagina di google variano tra i 200 e i 400 euro quindi per un volo di 12 ore si viene a spendere tra i 200 e 400 euro naturalmente sono voli low cost ho digitato poi sempre sulla pagina di google il volo santiago del cile sidney e sul serp mi vengono comunque una serie di voli che costano dai 2000 ai 4000 dollari naturalmente voli low cost ho provato a cliccarne alcuni di questi e sono tutti voli con scali ma è interessante il fatto che tra per una distanza che sul globo è praticamente uguale il globo richiederebbe un volo di circa 14 ore abbiamo detto tra santiago del cile e sidney e quindi appena un'oretta un'ora e mezza due ore in più rispetto a roma san francisco noi abbiamo un prezzo del biglietto che è dieci volte di più come è possibile questo dieci volte di più tra l'altro di voli con con scali che quindi sono decisamente svantaggiosi dovrebbe e quindi a prezzo minore un volo diretto quindi a questo punto quanto mi viene a costare io mi ricordo che comunque che qualche anno fa quando avevo visto effettivamente che c'era la possibilità di prenotare un volo diretto questo costava minimo 2500 dollari quindi a parità di chilometri rispetto al volo roma san francisco qualche chilometro in più nel senso che richiede un'ora e mezza di volo in più a parità di chilometri o similparità noi abbiamo un biglietto che costa dieci volte di più ecco io allora a questo punto mi faccio delle domande mi chiedo ma come mai su una tratta che è praticamente identica il biglietto mi costa dieci volte di più è vero la compagnia è diversa è vero la tratta è diversa ma la distanza è la stessa quindi mazucco mi spieghi che cosa succede mi spieghi perché andare a fare una ricerca veloce su internet così io posso dire dimostrare quello che voglio ma poi in realtà se sono obiettivo delle domande me le devo fare quindi questa cosa che dice mazucco sui voli sulle tratte aeree è stata trattata molto male lui deve andare a vedere tutti i voli che dimostrano che la terra è piatta e non un globo e poi tenere conto degli aspetti che dimostrerebbero che anche questo volo di lunga tratta tra santiago del cile e sydney è un volo molto strano va bene un ringraziamento a tutti continua questa serie con altri 5 video che tratteranno gli altri punti ciao